Che cosa fate qui? Ci stiamo allenando. Gli attacchi a lungo raggio possono andare bene per le macchine. Ma un soldato va affrontato faccia a faccia. Sono Lirokke. Mi occupo della fossa qui a Lanciardente. Ho visto pochissimi stranieri spingersi così a Ovest. Ma da ciò che ho sentito, sei un abile combattente. Puoi allenarti qui se vuoi. Ma nella fossa si entra solo con lancia e arco d'allenamento. Il resto rimane con me. E se vuoi metterti alla prova, posso anche proporti delle sfide. Completale tutte e potrai batterti con me. E che succede se vinco? Otterrai un marchio a prova che hai dominato questa fossa. Se ottieni marchi da me e alle fosse del bastione e di Nera Spina, avrai l'onore di sfidare l'Indomabile. Ho sentito nominare l'Indomabile. A destra i soldati Tenacte, vero? Fa molto più di questo. L'Indomabile è una leggenda tra i clan dei Tenacte. La più grande di tutte. Mi si fa onore nelle fosse e hai il diritto di sfidare l'Indomabile. Inclusi gli stranieri? Sì. Se sconfiggerai tutti i maestri. Allora, hai deciso? Vuoi allenarti o preferisci accettare una sfida? Che preferisci? Che preferisci accettare l'Indomabile. Oltre a combinare attacchi singoli, puoi anche unire più combinazioni. Prova con questo. La mia forza. Ma siamo a qualcosa di diverso. Allenati a usare il taglio aereo in combinazione con un colpo aereo. Combatti seriamente. Hai eseguito bene. Un attacco sensazionale. Questa fossa è fatta per combattere. Basta! Mi arrendo! Gran combattimento. Questo livido mi aiuterà a ricordarlo. Ecco. Il marchio che meriti. Grazie. Il primo è andato. Va alle fosse d'addestramento al bastione e a nera spina. Vinci i marchi e potrai sfidare l'Indomabile. In pochi ci sono riusciti. Ma credo che tu possa farcela. Se invece vuoi allenarti o affrontare un'altra sfida, basta dirlo. La fosse è qui per questo. Un'altra volta, Lirocche. Eh, va bene. Un'altra volta, Lirocche.